ciao a tutti benvenuti in questo terzo appuntamento con le storie dei diavoli oggi vi parlerò della personalità dei diavoli quello che gli piace quello che non gli piace cosa fanno nel loro tempo libero e come lavoro ma prima vi parlerò della storia di salomone il re salomone di israele quando cercò di fare un censimento infernale ovvero un censimento di tutti i diavoli che ci sono nel mondo nell'universo questo è un problema che in tanti si sono sempre posti sia prima che dopo salomone ma nessuno è mai riuscito a dare una risposta esatta salomone che era esperto di arti magiche evocò satana in persona e gli chiese direttamente quale fosse il numero dei diavoli ma satana si arrabbiò e se ne andò via in un turbine di fuoco dopo qualche anno salomone si fece costruire dai fenici che erano esperti nella lavorazione del vetro una bottiglia di proporzioni gigantesche che fu trasportata via acqua in mare su navi fatte con cedri del libano ci mise dentro una splendida pipa di argilla che gli aveva regalato la regina di saba perfumare la mandragora e aspettò che la bottiglia si riempisse di diavoli questo perché perché è sempre stato noto che la più grande passione di satana sono le pipe pipe di qualsiasi tipo e infatti tutti i diavoli in ogni viaggio che fanno cercano sempre di portare indietro all'inferno una pipa da regalare a satana per acquistare dignità e farsi benvolere da lui quindi salomone aveva pensato bene di mettere una pipa pregiata preziosa rarissima unica al mondo in fondo la bottiglia e aspettare che tutti i diavoli si accalcassero lì per essere i primi che riuscissero a portare della satana quindi salomone tappò la bottiglia con un telo gigante pronunciò la formula magica abracadabra che serviva per far comparire i diavoli e li contò tutti a 1 a 1 verificando 7 per 7 per 7 volte il conto e ottenendo 342 volte su 343 la somma 6666 salomone ritene sufficiente l'approssimazione del conto e pensò che per calcolare il numero totale di diavoli bastasse moltiplicare per se stesso il risultato e quindi 6666 per 6666 dava 44 milioni e 435 mila e 556 diavoli così salomone fu certo di aver risolto la questione per secoli il numero di salomone fu ritenuto perfetto ma attorno al 1400 quando furono riscoperti i libri ermetici tanti maghi alchimisti non furono più soddisfatti di questo numero e cercarono di rifare il conteggio dei diavoli però nessuno riuscì mai a fare il conto giusto questo andò avanti fino all'ottocento quando qualcuno propose che per calcolare il numero dei diavoli bisognasse moltiplicare il grande numero di pitagora per la costante 6 e così ottenne 7 milioni 405 mila e 926 diavoli all'inizio demonologi studiosi vari furono soddisfatti di questo numero ma poi ripensandoci arrivarono a conclusione che la costante 6 era arbitraria senza un vero motivo era stata presa e anche il grande numero di pitagora non è che avesse questo grande valore quindi al giorno d'oggi si ritiene che nessuno sia ancora mai riuscito a calcolare il numero dei diavoli e ora passiamo finalmente alla personalità del diavolo oh yeah una delle principali capacità dei diavoli è quella di trasformarsi anche questo privilegio però comporta una gerarchia i meno dotati fra i diavoli erranti possono scegliere solo tra la forma umana e poche forme animali o vegetali i nobili periferici e cortigiani hanno a disposizione un ventaglio molto più vasto per satana infine non c'è alcun limite egli può essere alternativamente uomo mostro animale o pietra e persino a suo piacimento tutte queste cose contemporaneamente ma il diavolo non solo si trasforma il diavolo è un abile architetto comunemente il diavolo viene identificato come un distruttore in realtà il diavolo è sempre stato un costruttore tutti i diavoli sono sempre stati costruttori tra le opere più famose dei diavoli ci sono il tempio di salomone le pietre di stonehenge che furono portate in volo dall'irlanda dal mago merlino per ordine di satana ma ci sono anche numerosissimi altri edifici come torri muraglie acquedotti castelli e anche chiese e conventi sono in realtà opere dei diavoli che ne hanno poi nobilmente lasciato la gloria a qualche umile capomastro meritevoli di successo le cattedrali gotiche per esempio sono una delle opere più grandi che il diavolo abbia mai fatto fu lui per esempio a costruire le cattedrali di chartre e di notre dame sono le più celebri se non le più belle di francia in più è stato molto spiritoso immortalandosi da solo nelle balaustre sui bordi di queste cattedrali però tutti i diavoli sono famosi per costruire ponti che sono le opere più note architettonicamente progettate dei diavoli la ragione sta nel fatto che la carriera di architetto del diavolo cominciò o quasi con la costruzione di un ponte lunghissimo che collegava l'inferno con la volta cereste e fu distrutto non si sa quando né da chi dopo di allora nessun diavolo dimenticò mai la grande esperienza acquisita in quel lavoro colossale e costruì ponti un po dappertutto sia spontaneamente che su ordinazione tra i suoi committenti più recenti l'unico che gli dimostrò sincera e pubblica gratitudine fu sancado che si fece raffigurare in un'incisione mentre stringe la mano a satana sul ponte appena costruito alcune leggende popolari narrano che il diavolo in cambio della costruzione di questi ponti voglia l'anima della prima creatura che ci passi sopra e allora normalmente gli viene fatto passare sopra un animale di poco valore come per esempio una volta hanno ritenuti gatti galli o animali del genere in realtà questa è una menzogna perché nessun diavolo si sarebbe fatto ingannare così facilmente oltre che nobile architetto il diavolo è anche un supremo musicista anzi la musica è la regina delle arti diaboliche e tutti i diavoli dai nobili a quelli più erranti più miseri e più sfortunati sanno suonare benissimo tra l'altro essi sanno suonare l'armonia delle sfere che nessun orecchio umano può percepire e che come è noto è prodotta dall'insieme dei ritmi infiniti dell'universo il rombo delle galassie che corrono per le strade del cielo il fruscio dei pianeti che ruotano sul loro asse fino all'infinitesima melodia prodotta da un filo di erba che cresce la stessa lingua diabolica alcuni dicono che sia basata su due soli suoni ma in grado di variare con 6666 timbri diversi l'immagine del diavolo musicista è accoppiata comunemente al violino in effetti satana è un ottimo violinista e fu lui a segnare certi trucchi del mestiere a niccolo paganini il famoso virtuoso che contemporanei non a caso chiamavano figlio del diavolo ancora prima di lui fu beneficato da satana giuseppe tartini bravo sia come violinista che come schermitore egli entrò infatti in contatto con le potenze infernali attraverso un sogno durante il quale gli fu dettato un assolo che superava quanto aveva mai udito o creato in vita sua destato si impreda a una fortissima agitazione tartini trascrisse le note una per una e ne uscì fuori il famosissimo trillo del diavolo nonostante ciò però lo strumento principale che piace di più al diavolo è il tamburo il tamburo o un insieme di tamburi o una batteria molto probabilmente perché il suono dei tamburi se suonati a dovere ricorda sebbene molto da lontano l'armonia delle sfere l'unico modo un po vago per avere un'idea di questa armonia è assistere a un rito voodoo dove tamburi di tutti i tipi si incrociano ma tutti mantenendo lo stesso ritmo ognuno con il suo ritmo e si incrociano tra di loro creando un'unica armonia altrimenti non riproducibile il voodoo fu ispirato agli schiavi da satana che odiava profondamente i negrieri e la loro arroganza non potendo spezzare le catene materiali egli creò l'estasi di questa religione danzata e svelò i segreti del tamburo a quegli schiavi figli di re di sacerdoti e di uomini libri e poi ai figli dei loro figli nessun uomo prima di allora era riuscito ottenere da tamburo ciò che ne sprigionarono i suonatori di haiti durante il voodoo essi li fanno rullare con furibonda passione per un'intera notte gettando in trance tutti coloro che danzano a quel ritmo infernale gli occhi si stravolgono le facce si contraggono e dalle gole dei suonatori esce un ranto incontrollabile come da quelle dei ballerini per poter sentire qualcosa di simile in effetti basta sentire qualche bravo batterista che magari fa una solo dove mani gambe si incrociano ognuna suona il suo strumento anche più strumenti ognuna col suo ritmo ma che si incastrano tutti tra di loro è una vera performance diabolica in cui un solo uomo riesce a moltiplicarsi per quattro i diavoli sono anche abilissimi meteorologi oltre che architetti musicisti non solo alcuni diavoli sono addirittura padroni dei venti come tifone o cigliu quelli di cui vi avevo parlato nella prima puntata ma addirittura tutti i diavoli conoscono perfettamente tutti i segreti dell'atmosfera non solo quella terrestre ma di tutti i pianeti dell'universo non c'è processo climatico che i diavoli non siano in grado di analizzare la perfezione e di dominare cicloni brezze di mare temporali trombe d'aria e anche piccoli mulinelli per esempio attorno a un albero o un cespuglio sono fenomeni che non hanno segreti per i sudditi di satana i diavoli sono i veri signori dell'aria vento pioggia neve grandine brina burrasche uragani sono per lo più opera diabolica non si dimentichi che una delle poche facoltà concesse dal diavolo alle streghe è proprio quella di influire sulle condizioni del tempo lo stesso rumore del tuono pare non sia altro che il brontorio del diavolo quando cavalca le nubi nere gonfie di pioggia e foriere di tempesta più rari invece i suoi interventi contro natura le piogge di rane locuste bruchi lumache e vermi nocivi o addirittura di fuoco di sangue di pietre e di terra furono scatenate dal diavolo in circostanze veramente eccezionali perché di regola egli non ama capovolgere il normale ordine delle cose i diavoli ma soprattutto satana sono dotati di un grandissimo senso artistico e per questo adornano le loro abitazioni le loro dimore con una serie di colori che hanno tra loro dei legami diabolici e con nessun altro colore questi sono sette colori elencati da satana che tutti i diavoli devono precisamente seguire i colori sono azzurro cupo rosso porpora arancione bianco viola nero e rosso sangue che poi sono i colori delle tappezzerie e dei tendaggi che satana ha scelto per la sua dimora dalla prima stanza dove si entra fino arrivare all'ultima che è la sua camera da letto naturalmente ogni diavolo ha le sue particolarità quindi non si può definire con una descrizione singola un diavolo però una cosa che hanno tutti è l'occhio malo detto anche malocchio lo sguardo diabolico ha queste caratteristiche è uno sguardo penetrante come una lama di coltello acuto come un punteruolo e capace di fissare il sole senza esserne abbagliato ma soprattutto è uno sguardo dotato di un potere sovrumano dal quale a meno che non si sia in grande confidenza col diavolo è bene difendersi l'occhio malo si può riconoscere se per esempio qualcuno guardando un piatto lo rompe o una sedia un oggetto di legno questo prende fuoco all'improvviso senza spiegazione ecco quella è una persona di cui diffidare molto probabilmente è un diavolo addirittura chi ha questo sguardo con un po di concentrazione può portare all'impotenza e alla sterilità ci sono comunque dei sistemi per evitare l'influenza dell'occhio malo come ho detto conosciuto anche come malocchio si può disegnare un grande occhio sul muro di casa o sul pavimento e trafiggerlo con una spada un punteruolo o qualsiasi cosa puntita ripetutamente oppure si può portare al collo un ciondolo di corallo rosso o ancora il modo più semplice e questo viene dai paesi dell'est è semplicemente gridare la parola aglio quando ci si accorge di essere in presenza qualcuno dotato di occhio malo urlando la parola aglio tutti gli effetti del malocchio dovrebbero andarsene in teoria funzionerebbe i diavoli tutti dal primo all'ultimo pur essendo molto fieri orgogliosi di se stessi hanno sempre tre problemi di cui si vergognano quando sono in presenza degli uomini il primo punto è il caratteristico odore sul furio come un misto di zolfo e uova marce questo perché loro vivendo all'inferno stanno vicino a pietre che si fondono lava metalli fusi che emanano appunto il caratteristico odore di zolfo che i diavoli si portano sempre dietro grazie al quale è anche facile riconoscerli naturalmente se ci si tappasse il naso in loro presenza o se gli si facesse capire che non si gradisce loro si arrabbierebbero tantissimo e questa è una cosa da evitare il secondo problema da cui sono afflitti sono i piedi caprini mentre in antichità i loro piedi caprini erano un punto di orgoglio e anche di vantaggio sugli uomini perché loro così senza bisogno di scarpe potevano correre ovunque senza sbucciarsi i piedi come fanno gli uomini insomma erano più resistenti più forti potevano arrampicarsi ovunque erano diavoli mica per niente però poi quando gli uomini cominciarono a ritenersi superiori degli animali quindi si parla di migliaia decine di migliaia di anni fa cominciarono anche a proteggersi i piedi a usare scarpe e gli animali furono visti come creature inferiori e anche i loro zoccoli che anzi furono associati a deformità e problemi non era una cosa bella anzi una cosa di cui vergognarsi per il diavolo e tutti i diavoli da allora quando sono in presenza di uomini a meno che non sia un'evocazione particolare ma quando sono in presenza di uomini e non vogliono farsi riconoscere hanno sempre addosso delle scarpe il terzo elemento di cui i diavoli si vergognano un po' sono le corna le corna che per centinaia di migliaia di anni sono state considerate da chiunque simbolo di saggezza di potenza di forza di di astuzia chi più aveva le corna grosse lunghe e attorcigliate era più potente infatti satana ha delle corna immense anche perché le corna erano un prolungamento del cranio in cui risiede l'intelligenza poi un giorno alcune persone sono state chiamate sante e sulla loro testa sono state posizionate delle aureole dorate quei cerchi di luce furono considerati più preziosi delle corna che da allora cominciarono a essere considerate anzi con disprezzo in alcuni paesi addirittura vengono considerate simbolo di tradimento coniugale infatti in italia è proprio questo il significato delle corna in su verso l'alto invece servono per scacciare il malocchio ecco questo è un altro sistema per scacciare il malocchio comunque stavamo dicendo che anche in italia e non solo le corna così mentre una volta in antichità erano simbolo di saggezza adesso sono simbolo di tradimento coniugale quindi per nascondersi i diavoli portano sempre acconciature particolari oppure cappelli che coprono per bene la testa oppure tendono sempre di più a non assumere l'aspetto umano ma trasformarsi prevalentemente in animali soprattutto mosconi cani gatti neri e caproni gli animali che abbiamo visto nella scorsa puntata inoltre a nessun diavolo piace il natale a parte per evidenti ragioni storiche visto che è una festa che gli è stata usurpata come più o meno le feste di tutte le religioni sono state prese da feste che c'erano in antichità di cui il diavolo si riteneva legittimo proprietario ma il natale non piace ai diavoli come non gli piacciono tutte le altre feste appunto di cui sono stati usurpati però il natale in particolare perché vedono la gente felice tutti che fanno festa tutti che stanno al caldo in casa nei caminetti e loro sono fuori in mezzo alla neve al freddo e questo li rende particolarmente tristi poi tutti gli diavoli odiano il nome di maria appena lo sentono si tappano le orecchie e scappano via lo stesso vale per il segno della croce e per le campane che sono lo strumento più grezzo e che satana e tutti i diavoli odiano di più perché in effetti sono uno degli strumenti più grezzi al mondo fanno un fracasso infernale queste sì che fanno un fracasso infernale e in più sono stonate infatti si dice stonato come una campana ecco le campane a tutti i diavoli danno tanto fastidio proprio perché i diavoli hanno un raffinatissimo orecchio musicale da questo punto di vista mi sa che sono un diavolo anch'io oh yeah invece non sono un diavolo da quest'altro punto di vista i diavoli non mangiano il sale odiano il sale e lo rifuggono in tutti i modi una teoria è che mentre gli esseri umani hanno poco più del 70 per cento di acqua nel corpo quindi hanno bisogno di un fissante per tenere l'acqua nel corpo per non perdere il fissante naturale migliore qual è il sale i diavoli invece sono fatti di fuoco non hanno bisogno di sale anzi non hanno proprio bisogno di trattenere acqua se no si spegnerebbero però questa è una spiegazione abbastanza approssimativa perché in realtà ai diavoli piacciono anche banchetti molto lussuosi infatti hanno anche il cantiniere nonché sommelier e cuoco infernale che è bemoth tutti i diavoli hanno anche degli hobby l'hobby principale è fumare la pipa con accanimento visto che satana è il maggior collezionista in tutto l'universo di pipe allora i diavoli prendono esempio da lui e anche loro si accaniscono a fumare satana si fa portare da ogni diavolo per ogni uscita che fa dall'inferno o ogni diavolo errante ogni volta che torna all'inferno satana si fa portare una nuova pipa per collezionarla e infatti ha la collezione più grande dell'universo con dentro pezzi unici pipe di tutti i tipi pipe africane pipe dritte pipe di legno pipe di schiuma pipe di pietra cirum narghile pipe cinesi pipe da oppio tutti i tipi di pipe lui li ha per il tabacco spesso satana si prepara le proprie miscele con erbe psicotrope o piante psichedeliche ma in realtà nessuno ne conosce la composizione e neanche gli altri diavoli inoltre come già detto i diavoli sono musicisti architetti e si dilettano in tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso i diavoli erranti invece si dilettano molto nel gioco delle carte che a quanto pare hanno inventato loro dati costanti contatti fra i diavoli erranti e gli uomini le carte divennero poi anche un gioco terrestre e presero talmente piede che le autorità sempre preoccupate quando la gente si diverte sentirono il dovere di intervenire il più acceso nemico di questo gioco diabolico fu san bernardino da siena che in una famosa predica in san petronio a bologna svelò l'origine dei quattro semi i denari dall'usura le coppe dall'ubriachezza bastoni e spade dalla violenza i diavoli invece ribatterono che i semi erano anzi un omaggio alle quattro classi sociali umane i denari per i mercanti le coppe per il clero i bastoni per i contadini e le spade per i guerrieri però i diavoli non furono creduti allora inventarono i tarocchi in cui inserirono una carta con la propria immagine che dritta vuol dire triunfo e rovesciata rovina così da allora in poi chiunque maneggia le carte sa di dover fare i conti col diavolo ai diavoli soprattutto quegli erranti piace qualsiasi gioco di carte ma che sia d'azzardo è ancora meglio infatti tutti i giochi d'azzardo gli piacciono dal poker alla roulette anche pari dispari basta che sia un gioco d'azzardo poi ci sono diavoli davvero di basso livello che sono quelli che vengono emarginati anche dagli altri diavoli i cui passatempi preferiti sono scrivere sui muri il numero 6666 cercare nel greto dei torrenti le cantolite che è una pietra che ne contiene altre 60 diverse e far uscire latte azzurro dai capezzoli delle vacche è chiaro perché questi diavoli siano emarginati da tutti gli altri i diavoli sono capaci di prevedere il futuro ma questa capacità è limitata dai diavoli più scarsi quelli di più basso livello che arrivano al massimo a prevedere un anno fino a satana che è quello che riesce a prevedere di più più lontano ma oltre 134 anni non arriva quindi non sapranno mai quando sarà il giorno x quello della battaglia finale e per questo vivono sempre nel terrore dell'attesa di questa battaglia e come avevo detto nella prima puntata sono organizzati molto gerarchicamente in maniera militare come un esercito comunque attraverso il calendario infernale satana cerca sempre costantemente di calcolare il giorno x che sarà il giorno della battaglia finale e quindi è sempre molto spesso chiuso nel suo studio a fare questi calcoli il tempo diabolico è scandito da cicli di 260 anni ogni anno si divide in 365,2422 giorni raggruppati in 18 mesi di 20 giorni ciascuno questa divisione che è abbastanza simile a quella umana però si complica perché avanzano 5 giorni perché in realtà l'anno diabolico ha 370 giorni e quei 5 giorni in più sono ritenuti da tutti i diavoli dei giorni nefasti e in quei giorni nefasti devono assolutamente nascondersi perché sono ritenuti davvero dei giorni in cui ai diavoli può succedere qualsiasi cosa brutta per nascondersi i diavoli hanno tre posti preferiti il primo sono i deserti in tutti i deserti del mondo esiste un posto remoto riservato ospitare i diavoli in quei 5 giorni se qualcuno ci capitasse deve fuggire lontano il volo si possono distinguere immediatamente perché lì la terra è rossiccia il cere giallo e le rubi nerissime di puro basalto che svettano nell'aria priva di nubi vi si notano in permanenza nere tende di pelle di capra dove i diavoli possono ingannare l'attesa giocando d'azzardo una quantità inusitata di tartarughe disposte in cerchio nel raggio di circa un chilometro delimita il sito segnalandolo agli incauti viandanti il secondo posto dove rifugiarsi sono gli specchi soprattutto se ovali ancora più dei deserti sono noti come rifugi diabolici tutti i tipi di specchi ma appunto soprattutto quegli ovali che comunque devono essere abbastanza grandi da poter ospitare un diavolo ranicchiato mai dare fastidio a un diavolo durante quei 5 giorni perché se si arrabbiano possono balzare fuori mettere a suo quadro la stanza entrare nel corpo di chi li ha scovati e possederli fino a un eventuale esorcismo l'ultimo posto dove rifugiarsi è quello più ovvio l'inferno l'inferno è un'enorme caverna circondata dalla palla di fuoco che occupa la parte centrale della terra per arrivarci esistono molte porte le più cerebri sono le rocce mobili da qualche parte nel mediterraneo orientale la valle della ghenna a sud di gerusalemme il lago averno nei pressi di napoli il fiume a cheronte che misteriosamente scompare sottoterra in una gola dell'epiro o ancora i borghi del mare del nord il lago di lochness in scozia i monti del tibet la bocca di un drago da qualunque parte si acceda il percorso è comunque lunghissimo buio e pieno di terrore perché i defunti non sanno cosa li aspetta all'arrivo alcuni sono delusi altri gioiscono l'inferno non è altro che il mondo degli uomini ma la rovescia il linguaggio che parlano tutti all'inferno è composto da grugniti parole licenziose e nessun rispetto per chi sta attorno all'inferno inoltre nessuno sta in ozio ma poiché il tempo è dilatato in dimensioni diverse dal tempo terrestre gioco e lavoro si mischiano in un disordine solo apparente e non si sa mai se l'uno è più importante dell'altro e quali ne sono i confini la violenza è riconosciuta come un dato di fatto e per questo i diavoli dannati si azzuffano e si dilaniano per poi ricomporsi come se nulla fosse avvenuto e danzare con grazia ma ciò che è più apprezzato all'inferno è uno scoppio di riso e infatti come avevo detto nella prima puntata ermes quando arriva all'inferno con la sua allegria è sempre benvenuto da tutti i diavoli e soprattutto da satana con i rifugi diabolici si conclude la puntata di oggi nella prossima vi parlerò di magia nera continuate a seguirmi sul mio canale youtube to speed music and travels iscrivetevi e attivate le notifiche iscrivetevi anche al mio gruppo su facebook urbex i mystery e ci vediamo al prossimo video oh yeah ciao 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 Grazie a tutti.